Operazione sorpasso per la Juventus che battendo la Roma sotto la pioggia battente dello Stadium non sbanda e si piazza in classifica davanti ai giallorossi in scia delle due milanesi. Per il turinista, il portale delle curiosità del capologo piemontese, questa la pagella di radiobianconera.com, l'unica che conta alla Juve. Un 7 politico fa quello che deve in questo turno di campionato, batte ancora una volta la Roma e ottiene la terza vittoria consecutiva per 2-0 in campionato. e sorpassa appunto i giallorossi. Migliore in campo, CR, 16 gol, festeggia il compleanno il giorno dopo e spalanca la porta alla vittoria numero 12 della Juventus fino a questo punto. Chiellini tra i migliori, come sempre King Kong è tornato, si vede, lo sentono anche gli avversari ed è utile più che mai. Spendo una parola anche per Edwin Dzeko, soffre in silenzio dalla panchina, poi lo mette in campo, ma dal campo o dalla panchina non fa differenza. Avrebbe voluto diventare bianconero già per due volte e sulla sua pelle ha capito perché a Torino non si molla mai o forse perché a Torino avrebbe fatto un salto di qualità. Let's Goal da Antonio Paolino per il turinista radiobianconera.com, la radio che vi ascolta, la radio dei tifosi bianconeri. Grazie.